Sottoscritto al Palazzo Santa Lucia il protocollo per la valorizzazione del patrimonio culturale e sociale custodito dall'Arcidiocesi di Napoli in vista del Giubileo 2025. A siglarlo l'Arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia e il Governatore Vincenzo De Luca. L'obiettivo, anche in vista del Giubileo del 2025, spiega De Luca, promuovere ai fini turistici i beni religiosi e offrire ai giovani della nostra regione la possibilità di conseguire una formazione qualificata. L'Arcidiocesi mette a disposizione i beni religiosi di pregio storico e artistico di cui il Centro Antico di Napoli è ricco. La regione sostiene e finanzia progetti di formazione e inserimento al lavoro, che è la nostra grande priorità. Il progetto è stato presentato da padre Antonio Loffredo, ex parroco del Rione Sanità e coordinatore del progetto. Ascoltiamo. Abbiamo un'ambizione, quella di svegliare un po' il senso di responsabilità della nostra gente a Napoli, degli ospiti che verranno, nel partecipare a costruire una fondazione che possa sostenere questa intrapresa, aprire dieci chiese per il momento e mettere a lavorare dei ragazzi. Come? Partecipando tutti e diventando soci di una fondazione di partecipazioni, un tipo di azionariato popolare. Abbiamo scelto per la prima apertura delle prime chiese quelle monumentali e storiche, significa quelle che raccontano la nostra antichissima storia, come San Daniello a Caponapoli, come San Pietro a Maiella che sono chiuse, come San Paolo Maggiore che al momento è chiusa, ma anche come l'Annunziata per decentrificare il centro storico.